C'è anche una proiezione esterna di questa cultura o queste culture politiche. L'elezione di Trump ha sicuramente ridato slancio in termini politici a quelli che definiamo populismi o populismi xenofobi o a queste tendenze che comunque sono emerse negli ultimi anni e sono affermate come vere e proprie realtà politiche in grado di competere poi con le forze politiche ed economiche che venivano dal vecchio blocco neoliberale che si è imposto negli assetti globali dopo la caduta del muro. Io questa volta farei un po' un giro a ritroso e partirei da Fobio che questo tema lo tratta in questo libro ma l'ha trattato in tanti articoli perché Fobio è uno degli autori principali del nostro sito di Global Project ed è un tema che comunque è diventato tema di discussione anche nel nostro paese. Sì, sicuramente come premessa debbo dire che quando usiamo la categoria e il concetto di populismo dobbiamo essere molto cauti nel senso che nella stampa mainstream nei dibattiti pubblici della politica istituzionale nella vulgata il populismo è un po' una calamita nel senso che qualsiasi cosa vada contro lo status quo, l'ordine costituito da parte dell'elite neoliberale appunto viene chiamato populismo per cui noi sotto questa parola, sotto questo concetto ritroviamo da il Podemos di Pablo Iglesias fino appunto a Trump o a Marine Le Pen o alla scelta nazionalista della Lega Nord di Salvini eccetera eccetera è ovvio che per fare chiarezza dobbiamo fare una distinzione non tra è così netta come fanno i puritani però diciamo dare a ciascun elemento la propria connotazione precisa e quello che penso io è che sicuramente Trump ha usato degli strumenti linguistici e dei concetti politici anche involontariamente oppure diciamo per interposta persona nel senso che sui spin doctor e sui speech writer hanno sicuramente si sono sicuramente avvalsi di questi concetti e successivamente li hanno fatti dire per bocca di Trump sicuramente appunto si è avvalso di un retroterra legato a un populismo di matrice xenofoba e neofondamentalista non possiamo però appunto prendere in astratto questa categoria ovvero che ogni tipo di populismo come del resto suggerisce anche Ernesto Laclau che è stato uno degli ultimi pensatori che più ha definito questo concetto e questo fenomeno storico il populismo agisce sempre grazie a fenomeni locali grazie appunto alla leva al sossegno che ottiene dalla cultura locale nel quale si dà quindi in questo caso sicuramente la derivazione puritana e sicuramente anche la condizione diciamo la costellazione sociopolitica a cui abbiamo accennato prima che si era data negli Stati Uniti negli ultimi anni per quanto riguarda il populismo in sé possiamo dire che allora da una parte il lessico che usa Trump è assolutamente tranchean appunto di nuovo distinzione bene o male c'è un I, un we che è sempre contrapposto a you e them c'è sempre appunto una separazione netta che deve essere rimarcata attraverso un uso massiccio di aggettivi collegati alla prima persona che devono far riflettere le caratteristiche illuminate e irraggiungibili del leader quindi Trump è il very successful man l'uomo che è molto di successo è quello che ha costruito un great empire è quello che appunto a partire da l'azienda di famiglia è riuscito a costruire una multinazionale che fa opere in tutto il mondo alla faccia del non essere un'elite globalista anche l'azienda di Trump è colui che strappa gli accordi più difficili economicamente di fronte ai suoi nemici economici quindi è uno che appunto ha scritto un libro uscito alla fine degli anni 80 che è diventato un best seller perché spiega alle persone come vincere gli accordi e poi propone quel tipo di razionalità quel tipo di mentalità là all'interno della diplomazia politica quindi dice in Iran dobbiamo fare come ho fatto io rispetto a tante altre aziende però in questo caso in merito al nucleare che ovviamente non è così semplice come risolvere diciamo uno scambio di azioni quindi c'è tutto questo portato linguistico che sicuramente lo fa avvicinare alla costellazione populista e in secondo luogo anche per riassumere quanto detto finora c'è diciamo l'identificazione attraverso di un leader di un popolo quindi Trump si è sicuramente appoggiato su delle connotazioni delle manifestazioni dei fenomeni che si stavano dando nella storia degli Stati Uniti ma è anche stato lui stesso performativamente colui che ha costruito un popolo l'ha costruito grazie appunto all'identificazione di un nemico interno che sono appunto le donne che praticano l'aborto che sono gli omosessuali che vogliono l'uguaglianza dal punto di vista dei diritti civili che sono gli immigrati che vogliono gli stessi diritti di cittadinanza nemici esterni la Cina la Cina svaluta la moneta perché così rende più competitive le sue aziende a danno di quelle americane il Giappone stessa cosa il Messico che addirittura ha un governo che spinge i propri cittadini ad andare verso gli Stati Uniti il Messico che si appropria delle aziende americane permettendo la delocalizzazione per chi ha delle condizioni di lavoro più vantaggiose eccetera eccetera quindi attraverso l'identificazione dei nemici attraverso un'antitesi costruire un popolo questo è ovviamente ciò che più può diciamo in qualche modo incardinare il populismo chiudo dicendo che sempre rifacendomi a quanto detto da Ernesto Laclau nella ragione populista effettivamente Trump è riuscito ad incarnare un ideale uno standard una ragione comune rispetto a tante diversità facendo appunto queste cesure tra interno ed esterno tra chi è meritevole e chi non è meritevole anche perché è riuscito in qualche modo a non solo riprendere la cultura appunto del sogno del sogno americano ma è riuscito ad essere diciamo quello che Laclau chiama il significante vuoto in un certo senso cioè è riuscito ad incarnare un'universalità che ognuno poteva significare con i termini e con le accezioni che voleva il problema è che come dice lo stesso Laclau in questo caso ci siamo trovati di fronte ad un etnopopulismo cioè che le cesure le separazioni le esclusioni che lui già portava in sé hanno provocato ovviamente il fatto che qualcuno rimanesse costantemente fuori dalla sua logica dalla sua logica populista e probabilmente è anche il motivo per il quale tutte le contraddizioni che lui si è portato all'interno sono immediatamente esplose appunto con le elezioni con la nomina dei suoi ministri con i primi ordini esecutivi che ha fatto e con anche il cambio di strategia rispetto appunto alla politica estera rispetto a tantissime altre questioni quindi sì diciamo per me Trump può essere definito un populista reazionario e neofondamentalista perché si basa su identità chiuse che ripropone e impone la cittadinanza allo stesso tempo non possiamo assolutamente dire che il suo populismo è uguale agli altri che vediamo qua in Europa gioca con altri fattori e soprattutto appunto dobbiamo anche renderci conto come suggerivano i due autori che abbiamo qua con noi stasera che il sistema americano si è sempre fondato su un populismo casomai è l'Europa che ha iniziato a prendere qualche influenza da quanto lasciato dalla politica americana da questo punto di vista e quindi una sorta di importazione delle tecniche e delle strategie populiste in casa nostra sì io credo che per capire uno delle possibilità degli strumenti per capire il populismo americano è cercare di capire la natura che il presidente americano ha nella loro cultura nel loro immaginario che è una natura anche lì religiosa e quasi profetica cioè per gli americani il presidente è una sorta deve essere immaginato deve essere immaginato come il migliore degli uomini come l'eletto tra gli eletti se l'America è la nazione eletta e noi siamo una democrazia perfetta eleggiamo il migliore tra di noi questa è una struttura anche qui che c'è da sempre in uno dei discorsi che riporta Fabio Trump dice la Clinton non è adatta a trasportare il popolo americano a una terra promessa io sono più adatto di lei ma se noi andiamo a analizzare i discorsi dei presidenti americani negli ultimi cent'anni sono tutti simili la nuova frontiera di Kennedy la frontiera della mente di Roosevelt ogni presidente si è voluto sempre presentare all'America come colui che la traghetta verso la nuova frontiera verso la città sulla collina eccetera certo sono quei discorsi che a noi fanno veniamo da una tradizione grazie a anni Dio ancora politica diversa ma sono quei discorsi che noi dobbiamo capire se vogliamo capire l'America cosa cambia da un presidente all'altro la natura della nuova frontiera o della terra promessa questo sì ci sono stati presidenti diversi e lì sono cambiate ovvio che la nuova frontiera di Kennedy non era solo quella spaziale ma era anche quella dei diritti civili ad esempio ora qual è la nuova frontiera o la terra promessa di Trump perché anche questa è una cosa a cui almeno gli americani hanno creduto ora perché l'America sono anni che non prospetta nuove frontiere vere la nuova frontiera di Trump è quella della pulizia interna e questo è il vero problema ghiacciante in cui noi ci troviamo davanti e su cui lui ha vinto le elezioni io non vi posso trasportare in una nuova frontiera perché questa non ce l'ho a portata di mano né quella cosmica quella di internet che era almeno secondo le prime controculture americane doveva essere la nuova frontiera elettronica evidentemente è una simulazione o non sta funzionando bene come essi pensavano a quel punto per creare spazio faccio spazio all'interno caccio 11 milioni di emigrati questo creo spazio attenzione mi metto dal punto di vista di chi l'ha votato ovviamente questo è chiaro quindi questa è quindi più che il profeta siamo di fronte a chi? è un'altra figura tipica dell'immagine americana il giustiziere il vendicatore che abbiamo visto in 13 milioni di narrazioni letterarie cinematografiche diverse colui che distingue il bene dal male chi è americano chi non è americano il giustiziere il vendicatore è comunque una figura profetica e religiosa c'è poco da fare allora se l'America non si riesce a immaginare così il suo presidente il suo presidente perde effettivamente Clinton di profetico di sognante non aveva assolutamente nulla almeno per molti degli americani chiudo su una cosa che secondo me è da questo punto di vista interessante ne parlavo prima con loro è una sorta di frattura ideologica io direi che si è creata nella Silicon Valley americana sulla visione che bisogna dare all'uso della tecnologia ed è la prima volta che accade in effetti questo perché prima essenzialmente la Silicon Valley era almeno i profeti delle nuove tecnologie erano quasi tutti al 99% democratici in questo caso abbiamo avuto due defezioni importanti tra i guru anche qui dei profeti delle nuove tecnologie che sono Elon Musk Tesla eccetera 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 e Peter Thiel quello di Paypal ma anche lì amico di Elon Musk finanziatore di tantissime start up californiane anche lì la rottura dove è avvenuta è avvenuta a livello di immaginario la frase famosa più citata di Elon Musk è quando ero bambino la fantascienza il sogno americano era quello di andare sulla luna di andare su Marte esplorare nuovi pianeti nuove frontiere quello che ci hanno dato sono i 140 caratteri su Twitter questa è come dire questa è Google Amazon Facebook sono un tradimento del sogno profetico americano della nuova frontiera e della terra promessa cosa vuole Elon Musk è mandarci su Marte effettivamente Hyperloop o alcune start up che sta finanziando tanto a suoni miliardi di dollari anche qui insieme all'esercito americano insieme al comparto militare che è sempre stato il più grande finanziatore delle nuove tecnologie in America non ce lo dimentichiamo mai che Internet è figlio di Arpanet e almeno in buona parte dei finanziamenti del Pentagono ecco quello è facci spostare nello spazio da New York a San Francisco in 35 minuti creare le macchine che volano le macchine che si guidano da sole mandarci su entro dieci anni almeno così ci ha detto mandarci su Marte a tutti quanti fondamentalmente è il sogno profetico americano anche lì arrivato a livello tecnologico mentre dall'altra parte loro sarebbero i conservatori secondo Musk c'è Google Facebook e gli altri invece che ci chiudono in reti e non ci prospettano nessuna nuova terra promessa o nessuno spazio futuro questa è la visione ovviamente della tecnologia a livello di immaginario poi dietro ci sono pure i soldi ovviamente dunque va bene mi sembra che loro abbiano già detto molto io ho poco da aggiungere un paio di osservazioni i populismi sono una cosa variegata e da un certo punto di vista noi potremmo dire che gli americani appunto sono nati populisti anche qui c'è una struttura mentale e a cui ho fatto cenno all'inizio la politica in Europa risolve i conflitti in America non c'è questa forma di mediazione quindi a risolvere i conflitti non può che essere un individuo straordinario e questo individuo straordinario lo sappiamo come diceva Emiliano è il presidente degli Stati Uniti non da sempre nella storia americana perché la figura del presidente supereroe attenzione che questa è un'altra struttura mentale simbolica americana molto forte nasce con la guerra civile sostanzialmente nasce quindi con Lincoln a metà ottocento qui ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso io credo anche molto divertente sui presidenti americani perché ognuno incarna simbolicamente una sua caratteristica pensate soltanto a un presidente che è stato forse il più grande presidente della storia americana che è Roosevelt Roosevelt aveva le caratteristiche opposte rispetto a quella del supereroe era affetto da una malattia gravissima era su una sedia a rotelle anche lì noi andiamo in realtà nella profondità dell'immaginario americano perché l'eroe americano non è semplicemente l'eroe forte l'eroe potente l'eroe della frontiera la John Wayne ma è anche l'eroe debole è l'eroe marchiato è l'eroe che Dio ha marchiato pensate soltanto a tutte le figure di supereroi tipo l'uomo ragno per esempio o al nerd che è un'altra tipologia di eroe americano ecco Roosevelt appartiene a sua volta a quello spazio simbolico eppure Roosevelt è colui che pur attraverso un'azione politica molto forte e accorta forse il più grande politico della storia americana è colui che ha traghettato la nazione dal disastro totale all'egemonia alla potenza internazionale qui c'è da fare una piccola appendice sulla questione religiosa ancora una volta perché qui su Trump andiamo su ridicolo dal punto di vista religioso Trump fa delle citazioni nei suoi discorsi sbagliate della Bibbia delle lettere di San Paolo eccetera che sono mirabili non ha molta dimestichezza con il mondo religioso eppure fa continuo riferimento al mondo religioso quelle categorie di cui noi abbiamo parlato la supremazia del bianco la misoginia eccetera dovrebbero essere dovrebbero avere un'aggiunta che è quella del predestinato sostanzialmente cioè non è solamente il bianco anglosassone ma è anche il bianco anglosassone protestante il presidente è il predestinato da Dio a salvare la nazione come se la cava e in questo caso Trump si inserisce anche in questo spazio no? Trump utilizza appunto a modo suo la religione però poi naturalmente faccio soltanto un esempio sembra sembra essere particolarmente abile nel portare dalla sua per esempio coloro che da almeno 30 anni determinano le vittorie le vittorie nelle elezioni americane che sono gli evangelici attenzione perché in America gli evangelici e io vi vi esorto a guardarvi un documentario intitolato Jesus Camp nel quale si descrive si descrivono i campi estivi in cui vengono praticamente reclutati i nuovi profeti i bambini evangelici che devono andare in giro a portare la parola di Dio vi assicuro che diventate tutti immediatamente integralisti islamici perché è veramente di una potenza devastante allora come fa Trump a per esempio portare dalla sua quel mondo che sembrerebbe molto lontano e che determina le vittorie elettorali beh il problema per esempio degli accordi sul clima è una è una delle questioni che va diciamo ad accogliere a braccia aperte il mondo evangelico il mondo evangelico per esempio è convinto che il mondo stia finendo sostanzialmente e quindi non c'è nessun bisogno di salvare gli accordi sul clima perché per poter raggiungere il millennio e il nuovo mondo è necessario che il mondo attuale si distrugga ecco come l'immaginario in realtà poi interviene pesantemente sulle menti e porta alle elezioni ecco un'azione del genere la può fare soltanto un presidente che è messo al centro del mondo americano e che da solo con la sua potenza con la sua predestinazione con la sua elezione può condurre anche a delle strutture e a delle situazioni devastanti è populismo questo ecco questa è la domanda da cui siamo partiti io non lo so spero soltanto che l'Europa che è diventata populista negli ultimi 40 anni perché ha perso la sua fiducia nella politica l'America non ce l'ha mai avuta ma l'Europa ce l'aveva prima in qualche maniera possa recuperarla questa fiducia perché è certo che i populisti europei che sono assai meno esercitati di quelli americani rischiano di fare dei danni ancora maggiori va bene grazie mille abbiamo tre minuti di tempo per cui è un po' provare a dibattere anche se i temi che avete posto sono tantissimi io credo che comunque comunque la si veda l'elezione di Trump come fatto politico rappresenti uno spartiacque se questo spartiacque sarà anche segnerà anche uno sviluppo di quella tensione latente di quelle contraddizioni nella società americana e non solo questo credo che lo vedremo nei prossimi mesi forse nei prossimi anni certo ci auguriamo tutti che fra quattro anni l'esito elettorale sarà diverso anche se poi la questione delle alternative qua si pone si pone un problema che abbiamo visto in Europa con con soprattutto con le elezioni francesi che è ancora più più ampio io saluto i nostri ospiti e li ringrazio poi ovviamente purtroppo non abbiamo tempo di fare un dibattito pubblico ma i nostri ospiti sono a disposizione per fare due chiacchiere qualsiasi tipo di intrattenimento colloquiale e io ricordo che giovedì abbiamo sempre qua un altro dibattito con un autore importante che già è venuto nello spazio di Sherwood che è Emanuele Leonardi e sarà un po' la prosecuzione dal punto di vista teorico di una questione che abbiamo affrontato la scorsa settimana che è quella dell'inquinamento delle nostre acque ovviamente il discorso sarà più ampio e verterà proprio su come le questioni ambientali sono in questo momento prioritarie all'interno delle contraddizioni di classe delle contraddizioni di potere che vive la società contemporanea io ringrazio ancora i nostri ospiti ringrazio tutte le persone che sono intervenute sono venute al dibattito e anche chi ci ha visto in streaming buona serata a tutti e tutte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti